Buonasera a tutti, benvenuti a 4 Calcio al 7, approfondimento settimanale dedicato alla comprensia Giulia e in particolare al calcio tagliostino nel suo totale. Abbiamo ospiti questa sera, due amici, due ragazzi che hanno giocato, ragazzi, di una volta si dice in questi casi, considero sempre dei ragazzi, con cui parleremo non solo di calcio al 7 ma anche di tagliostina e di altre attività sportive e quindi alla mia destra Flavio Morgardini, buonasera, molto grazie, e un po' qui in là, Dario Bilucaglia, anche a te grazie. Ciao Andrea, buonasera. Iniziamo subito direi con Flavio, allora tu potremmo stare qua anche un'oretta, un'oretta e mezza a raccontarvi tutte le squadre dove giochi e con le quali fai attività, raccontami quello che stai facendo in questo momento, in questo periodo d'ora e con che squadra stai giocando. Ma diciamo che il mio tempo pieno, il mio full time, è dedicato principalmente al calcio 11 amatoriale con l'Inter San Sergio di Carlo Milocco, dove stiamo disputando un bellissimo campionato nel nostro girone, poi con l'Osteria Belvedere e Tattoria da Glen al Città di Trieste, dove purtroppo stiamo un po' tenendo sal delle unghie sulla classifica sui bassi fondi, ma insomma tentiamo di risalire pian piano. E poi così il tergestino con l'Alisped, con il famoso gruppo dove facevamo l'Ober 35 del Venezia Giulia con Vicenzo Campolattano e company. Esatto. E poi vado a gettone diciamo con i cari amici tassisti. Parano tanto il gettone? No, il gettone e la cosiddetta birra con il gatto group nella serie B del Venezia Giulia. Quindi praticamente eri tutta la settimana impegnata da... Volendo sì, volendo sì. Quindi proprio non stacca una vista nel calcio a 7 diciamo e anche a 11 a questo punto. Sì. Raccontami un po' due parole su questa attività di campo a 11 amatoriale federale con cui tra altre cose parlavo anche qualche trasmissione a fa con Walter Marco. Che sembra che lo faccia tra l'altro. No, Walter gioca con lo Zaule. Sì, sì. Raccontami un po' come funziona, qual è la vostra categoria, la serie? Allora, diciamo che il calcio a 11 amatoriale, almeno a livello nostro regionale, è diviso in due serie. La serie A1 e la A2 che è divisa in due gironi. La A2 è il B2. Noi siamo nel girone B2. Ah, ok. Dove praticamente va a raccogliere tutto il girone triestino e isontino con qualche puntata verso i suoi. Quante squadre ci sono? Sono nove squadre per girone. Dieci squadre per girone. Dieci squadre per girone. Non tanti conoscono questa attività amatoriale ed è un bel attorno. Io so che ci sono giocatori di un certo livello o che giocano magari in serie A1? Non ci sono? Diciamo che anche chiamarlo amatoriale è un po' limitativo. Perché comunque bisogna avere 25 anni compiuti e quindi tanti ragazzi che magari la domenica non vogliono fare trasferte o non impegnarsi con magari allenamenti durante la settimana perché giocano a sette o per motivi di lavoro preferiscono giocare il sabato con gli amatori. Quindi diciamo che si avvicina più a una terza categoria ormai, almeno dal mio punto di vista. Tanti giocatori che magari finiscono a 35-36 anni anche di più in categoria poi vanno a giocare magari perché manca il campo grande, ne sentono la mancanza, vanno a giocare con gli amatori. Quindi ci sono degli incontri di buon livello insomma. Anche a livello arbitrale abbiamo arbitri che abitano fino all'eccellenza quindi... E fa allenamento anche? Noi no. Noi diciamo che io e qualche altro ci legniamo per conto nostro, a gruppetti, altri giocano i tornei amatoriali a sette. Mentre lo fa, lo dallo e lo fa invece l'allenamento perché hanno il campo disponibile, noi purtroppo no perché Carlo ha solo il campo sette e il campo undici giù a Borgo è sempre impegnato. Sorge spontanea domanda, come arrivi al sabato la partita? Ovviamente il fisico ti aiuta, però insomma non avendo allenamento specifico del campo undici forse qualche difficoltà qualcuno la può trovare. Beh diciamo che la difficoltà è tenere il campo soprattutto quelli in erba vera che ci sono fuori in friuli e ci sono pesanti anche impregnati di umidità o d'acqua è abbastanza faticoso, 90 minuti poi regolamentari quindi... diciamo che io tento di fare durante la settimana un po' di allenamento, di fare le ripetute anche sulle salite per avere quel minimo di condizioni anche perché io non sono sicuramente nato con i piedi buoni, anzi proprio il contrario, quindi devo puntare tutto sulla tenuta che posso avere. Gli altri fanno difficoltà anche loro a livello di tenuta, a livello di fiato soprattutto, abbiamo la fortuna che in fascia giocano ragazzi dell'87 e dell'88, quindi non è che... Quindi nelle posizioni strategiche ci sono... Sì sì sì, però anche loro alla fine partita ne risentano, soprattutto il giorno dopo è faticoso. Va bene, Dario con te invece volevo parlare un po' di quello che è la tua attività attuale, quindi oggi aveva giocato per tanti anni a sette, ho avuto anche l'onore di averti in squadra con me in alcune occasioni con la squadra degli omeggiatori... Abbiamo fatto una bellissima figura al torneo Tarabocchi, si mi ricorda. Abbiamo fatto qualche esperienza assieme, adesso so che ti occupi di calcio di famiglia. Sì, sì, io diciamo che per ovvi motivi di lavoro che tu ben sai non riesco ad avere un periodo fisso, libero durante la settimana per poter impegnarmi con nessuna squadra e dunque avendo iscritto a mio figlio che ha fatto cinque anni da poco con Sant'Andrea San Vito, ho cominciato avendo giocato una vita in porta e mi sono offerto per preparare i portieri. Diciamo che parliamo di 2009, 2008, 2007, dunque molto piccoli, è difficile una cosa veramente bella che ti dà tante soddisfazioni perché vedi questi bambini che il ruolo di portiere è una cosa tutta un po' particolare, che se ti piace, ti piace, se non ti piace è difficile stare in porta, allora se al secondo allenamento vedi che il bambino torna da te e ti dice sì mi sono trovato bene, voglio giocare, allora probabilmente quel bambino farà il portiere, io ho visto bambini che dopo il secondo allenamento volevano già tornare a giocare, a calciare la palla, invece vedi quello che l'allenamento dopo ti viene là con i guanti nuovi e ti dice guarda mi sono presi i guanti, sono quelle cose che capisci che probabilmente gli è entrato già dentro così piccolo il ruolo del portiere, però è difficile perché tenereli concentrati solo per un'ora, concentrati, non dico che facciano, imparano delle cose, perché è difficile, parliamo di cinque anni, ma tenere un bambino concentrato per un'ora e ti dà soddisfazione che alla fine vedi dopo un po' di tempo che comincia già a imparare i movimenti e poi si vedrà, comunque parliamo di bambini veramente, veramente, piccoli amici che ai nostri tempi mi risulta che non esisteva, perché io ho cominciato con i pulcini, avevamo otto anni, giusto? I primi calci ricordo io, al centro sportivo, quando ancora... Pulcini o prepulcini se non sbaglio, non c'erano i cinque, cinque, sei anni, mi sembra come non si poteva giocare. Non si poteva, no. Infatti adesso la federazione sopra il certo che ha iniziato l'attività giovanile, soprattutto sui giochi... E ai piccoli amici è importante perché io ho visto quando facciamo qualche amichevole con tante squadre, già bambini dai cinque ai sette anni, già vedi se qualche bambino ha il talento, perché un bambino di sei anni non può aver imparato tanto, se comincia già a calciare la palla di destra o di sinistra, che vedi che fa il contrasto, vedi addirittura che gioca a testa alta, cioè vuol dire che è una cosa proprio... Che a livello è naturale. Eh sì, ce li deve fare. Quali sono i giochi o l'allenamento specifico che fai sul ragazzino per farlo stare attento un'ora? Sì, sì. Che non è facilissimo. No, no, io ho cominciato con le basi, parliamo del portiere, le basi, la presa della palla, cominciare anche a impararsi a buttare a terra, le uscite, tante tante piccole cose, ma soprattutto devono imparare a usare le mani e non i piedi, perché sono abituati a usare i piedi e cominciare a farli capire di usare le mani e già... e poi devi sempre sempre inventarti qualcosa. Io vado su internet, tiro giù dei testi, vedo gli esercizi, però ripeto, essendo ancora piccoli, non essendo neanche formati, io non posso neanche metterli a terra, farli fare addominali, farli fare quelle cose, perché parte che devo rendere conto agli allenatori e tutte queste cose qua, dunque il mio è un qualcosa in più che non è neanche previsto per i piccoli amici, però giustamente poi loro li fanno fare a rotazione tutti gli esercizi che fanno anche gli altri bambini per non tenereli esclusi da una metodologia di allenamento che... Quindi è un indirizzo che si dà... Sì, poi piano piano tutti provano a stare in porta e se qualcuno gli piace continua. Ti ripeto, come ho detto prima, se il bambino la seconda volta, la terza volta viene là e poi ti viene con i guanti nuovi, vuol dire che evidentemente gli piace. Perché se non ti piace in porta diventa un incubo, star fermi là a 90 minuti diventa veramente dura, deve piacere. E come si approcciano alla partita? Quando un bambino viene messo in porta, si sente la sociabilità di avere... Sì, diciamo che quando io riesco a venire mi metto dietro di lui, cinque metti dietro e gli dico vai a destra, vai a sinistra, buttati, perché hanno proprio bisogno di capire da dove viene il gioco e con anche l'insegno di seguire il gioco. Tante volte quando hanno la palla i propri compagni li vedi che proprio fischiettano, si girano... Sì, parliamo veramente... Dai cinque, sette anni sono veramente piccoli. Sono piccoli, sì sì. Noi non abbiamo cominciato a quell'età. No, no, decisamente no. Perché Pulcini, se non sbaglio, da otto, giusto? Beh, sì, da otto, sì. Da otto comincia Pulcini, poi? Perché adesso sono cambiate categorie, no? Sì, dopo sono cambiate. Sordienti, indiettamente. Sordienti a nove, dovrebbero fare... Adesso hanno fatto esordienti a nove, sì. Sì, sì, sì. Quindi comunque è un'attività difficile da gestire, posso parlare di livello... Sì, sì, però veramente ai piccoli amici, per dargli un po' più di spazio, in generale, perché ti danno... Vedi veramente già dei bambini... Se vedi un bambino di una certa età, che gioca al giorno di una certa età, ti fa una cosa strana, no? Vedi, ma questo qua da chi ha imparato? Da nessuno. Eh certo. Perché a cinque anni può aver imparato da nessuno, certo. Quanta attività avete? Sono due allenamenti a settimana, da lunedì a mercoledì, e poi sabato e domenica si organizzano... C'è un campionato per i bambini più grandi del 2007, 2008-2009, e si organizzano tipo amichevoli, perché far giocare i bambini del 2009, che hanno cinque anni, con bambini del 2007, sembra la stessa cosa, ma... Vedi in sette anni e... Per due anni si sentono... No, è un po' incredibile, per esempio quella... La struttura fisica, quello che fanno... Allora si organizzano per i più piccoli, si parla con qualche squadra, abbiamo un toto di bambini del 2009, si fanno solo bambini del 2009 o 2008. E quante squadre ci sono all'interno del San Vito in questo momento? Tra piccoli e... No, piccoli amici, hanno un anno del 2007, poi fanno il 2008-2009 assieme. E poi parte i pulcini, mi sembra che hanno tre squadre, pulcini A, pulcini B, pulcini B... Poi hanno un'attività molto importante. Sì, sì, io devo dire la verità, ho giocato una vita nel San Vito, ora poi hanno fatto la fusione con Sant'Andrea, e poi ho messo mio figlio lì anche per un fatto che sono cresciuti in quella società. Devo dire la verità, la struttura del campo è ottima, allenatori bravissimi, devo dire la verità che io non me l'aspettavo. Io quando giocavo a quell'età là, a malapena, avevamo qualche pallone, se c'era un miracolo. Ora vedo che hanno i sacchi dei palloni, per fare gli esercizi specifici, tutte le attrezzature che veramente... e non è una società di quelli che puoi dire chissà che, è una società direttantistica che però evidentemente hanno investito, e soprattutto investono molto sui... Mi sembra anche che a livello di prima squadra stanno andando bene, se non sbaglio. Sono stati promossi l'altro anno. Stanno facendo un buon campionato tra l'altro. Sì, sì, sì. Diciamo che anche il fatto di essere in quella zona l'aria, in via gli occhi, nel centro, praticamente... Vicino al nostro posto di lavoro, giusto? Sì, è molto importante, quindi evidentemente è un buon viatico. Ritorniamo su Flavio. A te volevo domandare la cosa che è... l'esperienza più significativa della tua vita calcistica. Puoi spaziare da quando giocavi da bambino fino ad adesso. Più significativa, più importante, più bella, più divertente? Beh... Quello che ti è rimasto di più un interesse... Guarda, io da bambino non ho avuto la fortuna di giocare a pallone, perché ho cominciato a giocare a pallone tardissimo. Perché io ho cominciato prima col nuoto, poi ho preso le altre marziali, al rugby, e poi ho affrontato il calcio con gli amici. E ho imparato quel poco guardando quelli che sono più bravi di me, praticamente. Quindi non... Diciamo che l'esperienza più bella... Io mi rifaccio un po' la puntata che ho visto su YouTube, che c'era ospite Max Basilice, che avevamo fatto quella bellissima squadra, di cui tu ti ricorderai, qualche anno fa, mi sembra 2009, fino al 2012, dove veramente abbiamo... abbiamo vinto praticamente tutto. Ogni torneo che abbiamo fatto, siamo arrivati come minimo in finale, poi c'è stata qualche volta che abbiamo perso, ma campionati, eccetera, eccetera, veramente è stata un'esperienza sia sportiva, anche se dal profilo amatoriale, che umana, secondo me è molto importante, perché era un bellissimo gruppo, avevamo coinvolto anche le compagne, i figli, chi li aveva, quindi è stata un'esperienza bellissima, che rimpiango onestamente, perché che sia con qualcuno ancora... ho la fortuna di giocare, però con qualcuno mi vedo poco, con altri neanche più, però è una cosa che veramente è stata significativa. Dimmi una percentuale, quanto conta il gruppo in una squadra specialmente di calcio amatoriale? Ma guarda, io avevo un allenatore che mi diceva, puoi essere bravo quanto vuoi, puoi avere fenomeni in squadra a bizzeffe, però se una squadra non è una squadra, e ognuno se ne frega di quello che fa l'altro, non noterete mai niente, quindi penso che sia importantissimo, perché è un modo per saldare 11, in questo caso dico 11 o 7, anime in un'unica praticamente. In un contesto unico? Sì, sì. Allora, effettivamente io sono pienamente d'accordo con te, perché lo riscopro in tutte le attività che svolgo, dal materiale anche al diretto indistico, se non c'è il gruppo, la squadra fatica comunque ad avere risultati, e questo è peccato, ma evidentemente quando c'è la coesione, in campo ti aiuti sempre, ti dai per l'altro, e invece in altri casi no. Secondo me, e qui è la domanda, forse è molto più facile farlo in un contesto di calcio materiale, quando vai a fare una cosa per pur divertimento, a differenza di quando lo fai magari a livello di identistico, che è, per certi versi, non dico sei costretto a giocare, però insomma, se arrivi ad un certo livello, è quasi un obbligo che tu continui a fare questa attività, in un certo livello di balzo. Senz'altro, il calcio amatoriale, dilettantistico e professionistico, sono tre realtà completamente differenti, l'amatoriale è puramente ludico, anche se comunque lo spirito di competizione, ci sarà sempre, perché il dilettantistico comunque cominciano ad esserci degli interessi. Ti faccio una seconda, mio nonno mi moriava anche quando giocava in Moncarte, a Scrupa, per cui, ed era la partita di calcio, ti immagini quando uno va a giocare la partita di calcio, io volo in campo per vincere, poi ovviamente, tutto è opinabile, però alla fine ci deve essere quel minimo di agonismo, di volontà di vincere, se no... Senz'altro. Dario, il tuo ricordo più bello? Il mio ricordo più bello, e penso quando ho cominciato, quando c'è stato praticamente, giocavo a calcio, attaccante, centrocampista indifferente, e ho avuto questo, mi sono messo in porta, e mi ricordo che all'inizio giocavo in porta, per quello ho detto, bisogna avere la vocazione, e all'inizio non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva di stare fermo in porta, stare fermo in porta, e dopo mi è scattato, ho fatto una bella partita, mi ricordo, ho avuto una soddisfazione di fare una bella partita, e mi ricordo che quella partita, perché da lì ho capito che probabilmente quello era il mio ruolo, e ripeto, ho giocato sempre in porta, e non ho mai voluto proprio neanche più giocare in nessun altro ruolo. Questo tuo cambiamento di ruolo è avvenuto in che età? Ah, avevo l'età di Pulcini, sì, avevo l'età di Pulcini, mi ricordo che il portiera era Gianluca Bassanese, che ha giocato tanti anni con la Mugesana, eravamo dei piccoli, c'era Stefano Butti anche, c'era Boscolo, c'erano tanti ragazzi che hanno giocato bene a calcio, e dopo per vari motivi, poi, e quello è il problema che, tante volte, io per quello ne parlavamo anche tante volte noi, il problema anche del calcio, secondo me, è che tutti questi tornei amatoriali, che sono belli, però fatti alla mia età, probabilmente alla sua età, vedere ragazzi probabilmente di 20, correggetemi se sbaglio, vedere ragazzi di 20, 22 anni, 23 anni, che mollano di allenarsi con le squadre, e vanno a fare questi tornei di Coppa Triè, a me dispiace sinceramente, è un peccato, è un peccato, io ho visto, ho fatto all'inizio, poi, prima di fare il mestiere che faccio, io navigavo, lo sai, dunque, non potevo avere una continuità, ogni tanto, essendo portiere, essendoci non tanti portieri in giro, ti chiamavano a fare questi tornei, no? e io dopo pensavo di trovare gente, invece vedevo dei ragazzi preparati fisicamente, che giocavano benissimo, ma dicevo, ma è possibile che, invece gente che magari non interessava allenarsi, e secondo me, forse anche un problema di Trieste, è stato anche questo, perché tanti ragazzi che, però ripeto, non sono esperti in materia, forse voi ne sapete di più, hanno mollato probabilmente le squadre, per buttarsi in questi tornei, che probabilmente è più divertente, è più divertente, però la fatica dell'allenamento, a me manca l'allenamento, mi ricordo gli allenamenti, che si facevano, insomma. Volevo passarci dopo, ma mi dai il pallone, giusto per mettere in rete, un altro argomento, che è quello della Trieste, tu sei un grandissimo bifoso della Trieste, sempre stato, sempre sarò, la Trieste, ma anche io l'ho seguita tanti anni, è proprio questo, secondo me, a dire il fatto che, a livello giovanile, non c'è una struttura, non c'è una società professionistica, che possa dare un punto di riferimento ai giovani della città, molti si trovano poi a decidere di non fare attività con altre società e di andare a giocare a sette. Purtroppo questo è un problema grosso, la Trieste, me lo direi tu, da quanti anni è in difficoltà? Manca una società, una società in città che... Ne parlavamo proprio anche delle altre trasmissioni, cioè, purtroppo con tutti questi presidenti che si sono susseguiti, di cui forse neppure uno era un presidente. Uno dei pochi nomi che so, il figlio del mio, per esempio uno che invece non ha voluto fare questo che dicevo, è Alberto Missi, il figlio del mio maestro di tennis, che gioca con il Gaia e che è uno dei pochi che è rimasto, non ha fatto tutti quei tipi di tornei, è rimasto proprio a voler giocare a calcio veramente. Però vedi, vedete, se un giocatore, se un giovane periostino vuole fare, ha le capacità per fare bene e vuole andare da qualche parte, deve comunque andare via a Trieste, perché a Trieste non c'è possibilità di fare niente. Una volta avevamo l'alibi dei campi, perché obiettivamente, non so se vi ricordate i campi di terra che c'erano. Ecco, non tocchiamo l'argomento, no? Adesso i campi ci sono, ma vedi comunque che quando arrivano nelle società quelle più forti, le famose terra dei santi, E poi là si ferma tutto. Questo, o perché chiedono un sacco di soldi per il cartellino, o perché... No, manca la Triestina. Manca la Triestina. Però la Triestina manca. Una volta c'erano tutte le varie società direttantistiche, i più bravi venivano presi dalla Triestina. Oppure la Triestina quando trovava, aveva una nidiata di ragazzi e non poteva farli giocare tutti, li mandava nelle varie società e così dovrebbe essere fatto. Mancando probabilmente una società leader, chiamiamo una società guida, nella nostra città, da quando? Da Fantinelli probabilmente. Perché di Fantinelli tutto si può dire, ma mi sembra che a livello giovanile, quello che è dispiaciuto più di tutto, attaccandoci un po' discorso a Triestina, quel fallimento lì ha mandato via tutti quei giovani che promettevano, perché qualcosa avevano fatto. Io mi ricordo che a livello giovanile a Triestina stava andando bene. Anche mi sembra con Tonellotto non arrivò al torneo di Viareggio rischiando di vincerlo, mi sembra. Dunque, erano rimasti dei giovani. Dopo quel fallimento via tutti. Rompete le righe e tutti via. Nel male, Tonellotto, in tutta quella miglia di cavoliate che ha detto durante la sua permanenza a Trieste, qualcosa di positivo l'aveva anche pur detto. Ed era quel discorso del centro sportivo per tutta la società e non solo per la Triestina ed era un sacco di altre cose tra cui anche un importante impegno a livello di settore giovanile. Cosa che poi non è venuta per ovvi motivi e per tutto quello che è successo conseguentemente. Però è evidente che se non si ha un settore giovanile poco si fa. E quindi... dà fastidio come a 60 km c'è una società come l'Udinese che ti dà degli insegnamenti e veramente è una cosa incredibile. Dobbiamo prendere esempio un pozzo sicuramente. Al di là del campanilismo bisogna dire tanto di cappello. Sì, sì, decisamente. Poi loro mi ricordo benissimo che hanno preso anche tanti triestini di quell'epoca perché c'era uno scambio tra l'Udinese e la Triestina con tanti figliolani che giocano qua e molti triestini che dovevano giocare da l'altra parte. La persona che ti rimasta di più è affezionata nel calcio e nel tragitto che hai fatto del tuo percorso? Ma io penso posso ricordarmi benissimo del mio allenatore Nino Nangano che è praticamente lui che mi ha messo praticamente in porta dunque lo ricordo sempre con piacere e devo dire la verità a tutta la società del San Vito dove sono cresciuto che non dal presidente Zemane che a tutte le varie persone che si sono susseguite perché effettivamente come dicevo prima veramente non c'erano soldi si faceva tutto ci si arrangiava non c'erano campi noi ci allenavamo in seminario non so se ti ricordi il campo del seminario non mi ricordo ma l'ho sentito parlare ecco e sì devo dire la verità grazie perché sono cresciuto in una società veramente ottima e poi sono passato con l'Uzaule e sono arrivato fino a poi a seconda categoria poi 19 anni si parte militare ma fa un certo effetto per chi ci ha giocato da bambino poi arrivare a fare l'allenatore il dirigente nella società dove sei nato calcisticamente sì diciamo che ormai si è fusa con Sant'Andrea dunque è diventato però insomma sì però mi fa sì mi fa un certo effetto ripeto mi sono offerto di fare questo e mi hanno accettato lo faccio con passione proprio perché veramente non pensavo che bambini così piccoli ripeto metto sempre l'accento su questo perché 5 anni sono veramente piccoli mio figlio che corre quell'occasione per salutarlo Valerio ha fatto 5 anni da pochi mesi lo vedi piccolo io mi ricordo che lui era abituato a giocare con la palla leggera nel primo allenamento è andato lì convinto la prima pallonata che ha preso è stato un dramma per i 15-20 giorni che si allenava con la paura piano piano ha capito perché veramente ti dà veramente soddisfazioni allenare secondo me è una cosa che consiglio a chi vuole mettere via le scarpette c'è sempre bisogno penso in tutte le società di persone perché veramente organizzare le partite andare a tutte le partite fare allenamenti tanti non riescono bisogna lasciare i cambi no non è facile Flavio tu hai avuto esperienze a livello giovanile non mi ricordo no a livello giovanile no con i bambini no ma noi ti devo dire se hai fatto qualcosa con i bambini no con i bambini no io ho fatto nel 2008-2009 il preparatore all'Union in terza categoria che secondo me è stata una bellissima esperienza perché l'Union è sempre stata la realtà forse più più concreta a livello dilettantistico di chi veramente voleva giocare al calcio nella sua totalità perché non c'erano rimborsi spese non c'era un campo fisso ma ce l'avevamo piccina quella volta e i ragazzi veramente erano venivano magari da anni e anni di inattività anche mi ricordo va al presidente Brundo che lo conosco lo conoscevo da quando ero piccolino perché era dirigente all'Edra dove giocava mio papà quindi è stato un bel anno culminato purtroppo con un ultimo posto ma veramente l'impegno profuso dei ragazzi non posso dire niente mi ricordo nei vari campionati questa formazione dell'Union che era sempre nei bassi fondi però con qualche squadra c'era sempre quella rivalità mitica diciamo e loro c'erano sempre queste partite difficili che nonostante la scarsità della squadra tecnica diciamo alla fine poi si 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 qualcosa di diverso dagli altri cosa non da poco sulle maglie avevamo scritto lealtà nello sport era proprio il motto del presidente e quell'anno avevamo anche un allenatore giovanissimo perché era Emanuele Bergamasco che saluto anzi perché è una persona secondo me in gamba e squisita quindi gli auguro di avere soddisfazioni in questo mondo di allenatore grandissime ok, siamo vissuti insieme ma io è Emanuele quindi lo conosco anch'io molto bene aspettative per il futuro? potresti fare ti vedo come allenatore di qualche squadra giovanile così diciamo che è un bagaglio tecnico molto ridotto quindi non mi sento io in grado a livello atletico posso dare una mano fargli fare fatica insegnamenti tecnici lascio tranquillamente a persone più competenti con l'ultima ho avuto anche con Dario perché siamo in chiusura abbiamo premiato il nostro tempo anche per te la domanda che ha fatto a Flavio qual è le tue aspirazioni future? ma la mia aspirazione sempre riguarda l'ambiente eh io spero che no la mia aspirazione per il mio io vorrei ricominciare anche piano piano anche io a giocare perché ho avuto un problema giocare in porta ricominciare a buttarsi a terra dopo un anno è duretta perché il fiato c'è sempre vado a correre però buttarsi a terra anche se i campi di adesso sono qualcosa di favoloso guarda perché io mi ricordo che quando c'era un po' di pioggia era difficile innarsi nei campi di Trieste invece adesso l'altra settimana io pensavo che non si poteva giocare invece in via Locchi ma come in tutti i campi veramente ha tenuto spero di ricominciare piano piano a fare qualche partita io gioco ogni tanto il campo a 11 a San Luigi lunedì sera tra amici con il mio amico Dario Crosato che organizza queste partite io rimango per il calcio a 11 però trovare 22 o 20 persone ogni lunedì che vengano lì che ti diano disponibilità anche quello è difficile perché mi rendo conto che la gente ha cimpeni c'è la famiglia e spero che mio figlio faccia ora visto che il papà è lì nei portieri comincia ogni tanto vuole anche lui provare a giocare in porta io ho detto prova tutto poi deciderai speriamo che si diverta e soprattutto che prenda il calcio come deve essere preso esatto come uno sport come un gioco esatto perfettamente ok io vi ringrazio è stato molto forza triestina sempre andiamo allo stadio nonostante tutto è stato molto molto piacevole parlare con voi avremo sicuramente l'occasione di trovarci in qualche altra occasione per il momento vi saluto saluto i nostri telespettatori ci vediamo la settimana prossima ciao Andrea grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti